Allora De Vecchio, sull'approvazione del bilancio e il consiglio comunale di ieri e di oggi, c'è molto da dire a questo riguardo? Sì, perché la democrazia è un processo difficile da portare avanti, però è indispensabile per la tenuta sociale. Nei due consigli comunali hanno cercato in tutte le maniere di metterci il bavaglio, cioè di farci stare zitti. Sono arrivati insulti fuori luogo a consiglieri comunali, sia da parte del sindaco che di consiglieri. Un atteggiamento prepotente ed arrogante da parte di tutti i consiglieri comunali, ma soprattutto ci è stato negato di svolgere il ruolo che noi abbiamo, cioè il mandato elettorale, perché non ci hanno dato i documenti necessari a valutarlo il bilancio. L'abbiamo detto in tutte le salse, ponendo anche delle questioni pregiudiziali a che si continuasse ad andare avanti per il consiglio comunale e ponendo anche delle diffide sia ai dirigenti, quindi alla parte tecnica che alla parte politica, dicendo aspettate perché voi ci avete dato documenti illegibili dai quali non si riesce a strapolare nulla e quindi noi non sappiamo effettivamente, se non così, dalle commissioni che abbiamo avuto, quante tasse pagheranno i cittadini, quali saranno i servizi, quanto e come spenderete i soldi che i cittadini vi pagano nelle tasse. Ecco, è stato veramente calpestato il diritto dei consiglieri comunali di svolgere il proprio ruolo, per questi motivi e per come si è svolto poi il consiglio, per gli insulti che ci sono stati, noi presenteremo un esposto al prefetto, perché è inaccettabile che venga cercato in tutte le maniere di mettere il bavaglio all'opposizione e di negare la rappresentanza che è stata ottenuta grazie ai voti, quindi noi abbiamo un mandato elettorale che è stato negato in questo consiglio comunale, nella delibera più importante il bilancio.